e michelle michelle ferrari e la prostituzione qua si trova in un potente programma televisivo non è non è l'arena non è l'arena e parla della prostituzione vediamo cosa dice vediamo è vedete cari amici vedete la situazione perché è tanto brava michelle ferrari è tanto brava solo che c'è un problema che lei ha ragione a dire che è il lavoro della prostituta va legalizzato ha ragione e solo che lei arriva fuori tempo massimo capito michelle ferrari e anche tu massimo giretti dovreste dirle certe cose dovreste dirle perché non le dici certe cose massimo giretti perché le deve dire sera fino massoni e tu gli dovevi rispondere alla bella brava michelle ferrari che che cerca di arrivare alla fine del mese facendo la porno star devi dire che siamo fuori tempo massimo perché viviamo in una società liquida sì 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 non è più una società solida è una liquida dove non ci sono più i valori di dio padre e famiglia non ci sono più capito i valori di giorgia meloni dio padre e famiglia no 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 nella società liquida e le redi le redi che sono le donne sposate e le guerre che sono le signorine e la danno via la danno via molto facilmente senza farsi pagare e non devi neanche portarle a cena perché viviamo in una società liquida in forma di massimo giretti e anche voi cari amici informatevi noi viviamo in una società liquida liquida il fatto è che michelle ferrari queste cose non le sa perché michelle ferrari mica la letta la stipe del serpente ma forse anche massimo giretti mica la letta la stipe del serpente e tra parentesi potrei dire tra parentesi e absi tinuri averbi cioè senza offesa per nessuno potrei dire che sia michelle ferrari che massimo giretti sono due due sono due due tra virgolette tra virgolette sono due ignorantoni ignorantoni nel senso che non sanno non sanno non sanno soprattutto non sanno non sanno non sanno nulla della stipe del serpente e per cui quasi può assistere alla povera la questa povera ragazza qua michelle ferrari che vuole che venga legalizzato hai ragione che venga legalizzato ma certo però però le prostitute moriranno di fame tutte moriranno tutte letteralmente le fame moriranno perché viviamo in una società liquida nella società liquida le donne che si che siano girl o che siano lady nella società liquida la danno via subito la danno via subito a tutti a tutti a tutti e senza farsi pagare capito ecco qua questa è la situazione capito massimo giretti siccome certe cose alla michelle ferrari non gliele dico io siamo in una società liquida e per questo motivo che michelle ferrari e prima di aprire bocca dovrebbe leggere la stirpe del serpente e anche tu massimo giretti prima di aprire bocca dovresti aprire dovresti leggere la stirpe del serpente per cui a te michelle ferrari e a te massimo giretti che le cose non le sapete tanti cari saluti dalla stirpe del serpente